E quando ci sono dei giovani europei che vogliono andare a combattere in nome di un finto ideale da qualche altra parte del mondo e decapitano gli avversari politici, vuol dire che c'è qualche cosa che manca. Noi non siamo stati capaci di regalare ideali, non siamo stati capaci di regalare valori, non siamo stati capaci di regalare modelli ai nostri figli. Certo che la politica anch'essa deve recuperare i valori. Quando vediamo tanti politici che si preoccupano solo di arricchirsi, fa male anche a me.